Devo dire che il team non è che abbia delle preferenze, comunque se ce ne sono non sono per me. Questo certo non aiuta soprattutto la messa a punto della macchina, perché se si potesse lavorare su una macchina sola probabilmente riusciremo a cogliere più frutti. Anche perché noi non abbiamo, ripeto, il budget di una Ferrari o non abbiamo il budget di una McLaren o comunque di una Brabant. Quindi siamo un piccolo team che cerchiamo di gestire le nostre macchine al meglio. Oggi in particolare c'è stato quel brivido finale, proprio mancava quello spunto ultimissimo. Penso che non c'era niente da fare, Johansson mi ha rimontato bene e poi sul rettilino mi ha passato, avrà avuto 15 km in più di me. Sono quelle cose che d'altronde succedono in corsa, io ho vinto una corsa così all'ultimo giro in Austria e ho perso un punto all'ultimo giro con Stefano.